Ha fatto tanto discutere ai residenti di Muraglia la installazione della torre di telefonia nella zona tra via Forlanini e via Beccaria, a pochi passi dal locale asilo e un'antenna che proprio in questi giorni si sta rimuovendo, come era diciamo nei patti del carattere temporaneo di questa installazione? L'antenna ha cessato subito il fin funzionamento da un punto di vista delle emissioni di elettromagnetismo, come previsto appunto da normativa, perché era un'antenna carraia che aveva la durata di 120 giorni, 4 mesi, e già da fine anno era iniziato l'iter per toglierla, deve passare sempre tramite l'ufficio patrimonio, il SUAP, e proprio la settimana scorsa abbiamo avuto la comunicazione che sono iniziati i lavori per smontarla. Io voglio precisare rispetto a questa operazione che è proprio stata finalizzata a localizzare le antenne invece definitive in luoghi idonei da parte dell'amministrazione comunale, tutta l'attività, tutto lo sforzo, anche condiviso come noi sappiamo con tutti i quartieri, anche la cittadinanza, quella di arrivare all'approvazione l'11 dicembre del 2023 del regolamento per il funzionamento degli impianti di telecomunicazioni e di fornire questa mappa delle localizzazioni che sono relative alle istanze presentate dai gestori di telefonia mobile entro il 31 marzo del 2023. Voglio precisare anche un'altra cosa, che questo strumento comunale è stato importantissimo e determinante proprio nel caso di Via Beccaria e la Palissiano, il fatto che comunque abbiamo potuto ottenere la certezza che quando il gestore di telefonia mobile vorrà impiantare un ripetitore appunto per la team perché si trattava della team in quella zona, in quel quartiere, dovrà farlo in quel luogo, in quella areale di ricerca che ha individuato il comune nell'ambito di quei 35 che sono nell'attuale mappa delle localizzazioni. Però devo anche aggiungere che questo è un appello a livello nazionale molto importante che questo strumento, questo unico strumento che aveva la possibilità, che dava agli enti locali la possibilità di tutelare la propria comunità, la propria cittadinanza, sta continuamente sotto attacco viene smontato perché c'è una proposta, un atto di governo a livelli centrali che è già passato alla ottava commissione del Senato e a quella alla Camera e saranno proposti di emendamento per addirittura togliere i vincoli paesaggistici, quindi ci troveremo un enorme problema nel gestire la situazione per esempio nell'ambito dell'area dell'ente parco e preparco e addirittura si sta pensando di dare ai gestori la possibilità di espropriare dei terreni privati e non dover passare più tramite lo strumento del contratto di locazione, pur trattandosi di un servizio di pubblica utilità che proviene però da privati, da privati che non sono in compartecipazione come per altri servizi essenziali per l'elettricità e l'acqua che sono comunque gestite da molti utility che partecipano al patrimonio pubblico. Ecco, questa è una sofferenza che si prova come amministratore perché nel momento in cui tu riesci a fare delle operazioni di questo genere a tutela della tua comunità, dall'altra parte ti rendi conto e questo anche secondo una visione politica ovviamente abbastanza chiara, che non c'è questa attenzione. Poi l'ultima cosa, l'aumento da 6 a 15 volt metro che veramente in Italia, per il modo che noi abbiamo di misurazione nelle 24 ore dovrà destare una grande preoccupazione nel mondo scientifico e sanitario.